chi? io sarebbe meglio andiamo metto una bella stunna io io potrei mettere anche l'ultimo rimedio ibrido però io ce l'ho ah ce l'hai te già? ne ho posto a posto ah due dps duratoi dai sono tutti qua li scassiamo e ce li portiamo sotto ok partiamo da questi dietro sì ragazzi 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 dobbiamo spostarla io non voglio voglio io voglio ma guardi cazzo ragazzi dobbiamo spostarla me lo portate in sotto Grazie a tutti 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 Ciao Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti